lo facciamo andare vai vai mi devo tenere da qualche parte niente equilibrio equilibrio io non ce lo tengo l'equilibrio no no se non mi tengo qua pippo pippo non è come dici tu come no ecco pur che fanno è un casino a girare era sotto ecco cos'è no che si scapezza gula si scapezza ecco sei bastardo fai capricci hai visto sale del pericolo qual è? ah la macchina eh lui me lo capisce e si ferma pippo ecco no no che allucca allucca che allucca vai vai che li sdravoggiamo attacca oh 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 la cosa vieni qua pippo manu te ce te il posto eh mazza ma quando va pure lui manu però te devi tenere eh toh tine ecco spaterweb che su pippo dove si tiene? usa l'equilibrio ma io che stavo col telefono cosi non mi temo proprio popon vabbè eh siamo qui esciate qui vabbè per venti cavalli che puoi che si e vabbè sei tu che non hai capace come? ma io non avevo fatto nulla io io firmavo eh no che poi si scapezzava e allora spaterweb eh dici ma come sono stato più veloce di te ma cosa eh mica hai guidato pippo eh poi si scapezzava però si ma ecco e se noi adesso battiamo di nuovo il record eh bisogna vedere però eh adesso tu sei primo lui secondo come su secondo? eh no eh no hai togliato il traguardo tre secondi dopo ma no si scapezzava poi no no tre secondi dopo ma che ci conta no no c'era il notaio c'era il notaio che ha preso il tempo ecco allora il notaio è cornuto sempre un notaio è bene eh cornuto cornuto ma sempre un notaio l fotogenica oh c'hanno c'hanno gli addominali i cavalli? i lardominali gli addominali gli addominali